Natelli e sorelle nel Signore, allora oggi vorrei parlarvi appunto della preghiera del Padre Nostro in maniera particolare. Appunto per trasmettervi un messaggio che riguarda la preghiera, affinché voi sappiate cosa sia la preghiera e alcune cose che riguardano la preghiera. La preghiera è una forma con cui un uomo o una persona si rivolge a Dio. È una maniera di parlare con Dio rispettosa, cioè tenendo conto appunto di chi si va a incontrare a chi ci rivolgiamo. Quindi la preghiera deve essere fatta con tutto il rispetto. Bisogna conoscere a chi ci stiamo rivolgendo. E noi preghiamo i Dio Padre nel nome di Gesù Cristo. Possiamo andare al trono della grazia a parlare, invocare, adorare, intercedere per altri o richiedere misericordia per noi, perdono per i nostri peccati. Insomma, tutto quello che noi ci sentiamo di dire al Signore Dio, lo facciamo nel nome di Gesù e lo dobbiamo fare anche in una determinata forma. Ad esempio, la situazione, la condizione normale per rivolgersi a Dio in preghiera è quella in ginocchio. Non è l'unico modo, è chiaro, è anche le preghiere in piedi, seduti, quando si mangia, quando si ringrazia per il cibo. Cioè, ci sono diverse cose da considerare, che sono sempre preghiere. Però io, quando parlo della preghiera in particolare, mi rivolgo e mi riferisco a quella preghiera fatta in modo particolare, che durante la giornata ci si prende del tempo per andare a inginocchiarsi davanti a Dio, a pregare il Signore e a parlare con Lui come si conviene. Quindi, quella forma di preghiera va fatta in ginocchio. Le altre forme sono un'aggiunta, nel senso che si aggiungono a questa, ma questa non può essere assolutamente sostituita. Perché? Perché questa preghiera è questo tipo di preghiera che ci mette in comunione con Dio. Cioè, noi non siamo soli, non siamo indipendenti. In noi c'è lo Spirito di Dio. Siamo stati acquistati, siamo stati comprati a prezzo. Ora, apparteniamo a Cristo Gesù e Lui ci ha ordinato, per il nostro bene naturalmente, di andare a pregare ogni giorno, con costanza, pregare per entrare in comunione con il Signore. E affinché riceviamo quella potenza, quella forza, quella comunione con Lui che ci aiuta ogni giorno a vincere tutte le nostre prove, le nostre difficoltà, tutto quello che ci accade, tutto quello che ci succede. Attraverso la preghiera noi riusciamo a superare ogni prova, a vincere ogni tentazione e a risolvere ogni questione, ogni problema. Quindi la preghiera è fondamentale. È fondamentale insieme allo studio delle scritture. Perché la preghiera va fatta con fede. La preghiera va fatta con fede e la fede viene dall'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi la preghiera ci mette in comunione con Dio. Però è necessaria la fede. La fede da dove viene? Viene dallo studio delle scritture. Viene dalla parola di Dio. Quindi queste due cose, lo studio della parola e la preghiera, devono essere sempre presenti ogni giorno nella vita del credente. Ora iniziamo appunto per parlare della preghiera. Apriamo le nostre Bibbie in Matteo, capitolo 6. Matteo, capitolo 6. Qui Matteo ci fa sapere che, capitolo 6, versetto 1, dice Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Io volevo farvi notare che qui dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia. Sì, perché? Perché anche l'uomo, anche i credenti, quindi l'uomo in genere, ha una sua propria giustizia. E questa giustizia sono le sue opere. Queste opere il credente le deve mettere, le deve praticare. E qui nel Vangelo di Matteo stanno scritte tre tipi di opere che il credente deve praticare. Tra cui c'è l'elemosina, c'è la preghiera e c'è anche il digiuno. Qui in questo testo, nel capitolo 6, Matteo parla di queste tre cose. Noi prendiamo solo quello che ci riguarda per quanto riguarda la preghiera oggi. Però il discorso generale è questo, che il Dio ha stabilito che noi compiamo delle opere. Tra queste opere che noi dobbiamo compiere ci sono queste tre. Queste tre, tra cui questa c'è la preghiera. Tra queste c'è la preghiera. E noi non dobbiamo, qui ci fa sapere anche, non dobbiamo pregare per farci vedere dagli altri. Non si deve pregare per farci vedere dagli altri, ma dobbiamo pregare per entrare in comunione con Dio, che è un'altra cosa. Per quanto riguarda la preghiera, che cosa è la preghiera? Io ho sempre piacere di prendere in considerazione, per farci capire bene cosa sia la preghiera, quello che è iscritto in 1 Samuel, capitolo 1, al versetto 15. Che qui è Anna che prega il Dio nel Tempio. E Anna dice queste parole. Dice, ma Anna rispondendo, c'era stata una discussione col sacerdote Eli, vi andate poi a leggere tutto il contesto, ve lo accenno. C'è stata una discussione col sacerdote Eli, che pregava praticamente muovendo le labbra, e il sacerdote Eli pensava che fosse ubriaca. Invece lei, in sua difesa, dice questo. Ma Anna rispondendo disse, no, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Vedete cos'è la preghiera? Quando voi pensate alla preghiera, ricordatevi questo passaggio. Cosa è? Questo definisce bene cosa sia la preghiera. La preghiera è lo spandere la nostra anima davanti al Signore. Cioè noi andiamo davanti a Dio in preghiera e svuotiamo tutto quello che noi abbiamo dentro di noi. E questo lo dobbiamo fare in segreto, in maniera particolare, in segreto, non per farci sentire e vedere dagli altri, per apparire più spirituali di altri. Capite? Questo lo si fa quasi in segreto. Infatti dopo lo leggeremo. Lo si fa perché noi dobbiamo spandere tutto noi stessi davanti a Dio. E poi ricordatevi che quando preghiamo da soli nella nostra cameretta, quando pregheremo nel nostro luogo segreto, possiamo chiedere a Dio quello che ci sentiamo. Possiamo, diciamo, esporre, chiedere qualsiasi cosa più profonda del nostro cuore. Mentre magari quando facciamo una preghiera pubblica insieme agli altri fratelli, ci limitiamo a chiedere altre cose. Ma mentre quando si fa la preghiera da soli nel nostro luogo segreto, ecco che possiamo chiedere, esporre, possiamo spandere tutta la nostra anima, cioè tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, le nostre paure, i nostri dubbi, i nostri timori, tutto quello che è dentro di noi, fratelli, in preghiera, lo dobbiamo svuotare come un contenitore pieno d'acqua. Lo dobbiamo svuotare davanti al trono della grazia. Lo dobbiamo svuotare davanti a Dio perché non dobbiamo nascondere nulla di noi stessi al Signore. Egli già lo sa, ma noi non dobbiamo nascondere nulla. Apriamoci completamente al Signore perché Egli ci comprende, Egli ci darà quello di cui noi abbiamo bisogno poi. Ci aiuterà a superare ogni difficoltà. E questa è la preghiera, è fare questo viaggio in preghiera davanti a Dio. E io vi dico queste cose, fratelli, per esortarvi a pregare ogni giorno, perché un cristiano deve pregare ogni giorno, deve andare a trovare colui che dice di amare. Cioè, quante volte dalla nostra bocca esce questa parola, Io amo il Signore. Ah sì? Tu lo ami? E quante ore hai passato in preghiera per andare a trovarlo? Il Signore Dio che tu dici tanto di amare. Eh? L'amore? Cominciate a contare i minuti che avete passato in preghiera in ginocchio al giorno. E così vi renderete conto quanto lo amate il Signore. Voi, e vale anche per me, eh? Non è che io sono escluso. Diciamo di amare Dio, ma quante volte ci siamo inginocchiati? Perché dalla ginocchia si parte spiritualmente per andare a trovare lì Dio vivente e vero. Va bene? E quando andiamo a trovarlo, quella è una manifestazione di amore. Quella è una manifestazione di amore. Mettersi in preghiera per invocare il Signore. Allora sì. Allora possiamo dire. Ma se non ci inginocchiamo a pregare Dio, non possiamo neanche dire con la bocca, solo con la bocca, che amiamo tanto il nostro Signore. Ma se non riusciamo neanche a pregare un'ora al giorno, ma che amore abbiamo noi per il Signore? Cioè, capite? Questo per far... Ognuno esamini se stesso. Non voglio sapere io chi prega, chi non prega, quante ore pregate. Non è questo che voglio sapere io. Io vi devo esortare a inginocchiarvi davanti al Signore ogni giorno per andare a trovare il Signore Dio. E allora, dopo che avete una comunione profonda con Lui, ottenuta attraverso la preghiera in ginocchio davanti a Lui, davanti al trono della grazia, ecco che si può anche dire io lo amo il Signore. Sto facendo di tutto per imparare ad amare il Signore. Quindi bisogna farlo. Bisogna farlo. Bisogna farlo questo viaggio. Se no, non potete dire di amare il Signore. Addirittura abbiamo letto in Matteo 6, adesso torniamo ancora in Matteo 6, abbiamo letto anche che quella fa parte della giustizia dell'uomo. È una giustizia che riguarda le opere dell'uomo che l'uomo deve praticare. Perché, fratelli, certo c'è una giustizia di Dio, va bene, c'è una giustizia di Dio, ma c'è anche una giustizia dell'uomo. Cioè, l'uomo deve compiere queste opere non per essere salvato, guardate bene, perché la giustizia di Dio è quella che leggiamo in Romani 1,17. Adesso vediamo cosa è la giustizia di Dio. In Romani 1,17. Perché c'è la giustizia di Dio e c'è la giustizia anche dell'uomo. La giustizia di Dio è questa, che leggiamo in Romani 1,16. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Vedete, la giustizia di Dio è questa, che dice, appunto, il giusto vivrà per fede. Il giusto è diventato giusto perché ha avuto fede nel sacrificio di Cristo e in questa fede cosa è successo? Come conseguenza ha ottenuto che il sangue sparso da Cristo Gesù nella croce lo ha purificato da ogni peccato, rendendolo giusto. Quest'opera l'ha compiuta il Dio. Quest'opera di purificazione, di salvezza, di rigenerazione, la compie il Dio. E questa è la giustizia di Dio. La salvezza per mezzo della fede, nel sacrificio compiuto da Cristo Gesù. Questa è la giustizia di Dio. Che salva. Ma ora che siamo salvati, dobbiamo considerare che Dio ci richiede a noi una nostra giustizia, che pratichiamo una giustizia, la nostra giustizia, che sono le nostre opere, che sono le opere che devono abbondare in noi. Le opere è necessario farle, badate bene, ma non per essere salvati, perché le opere vengono dopo la salvezza, quindi abbiamo già ottenuto la salvezza. Ma come dice Giacomo, se andiamo a leggere in Giacomo, capitolo 2, le opere sono necessarie, perché sono necessarie le opere? Perché dalle opere, le opere manifestano quello che noi abbiamo ricevuto. Cioè, se noi siamo stati rigenerati, se noi diciamo di essere figlioli di Dio, deve seguire obbligatoriamente una certa condotta, una condotta santa, un parlare santo, un parlare secondo la volontà di Dio, secondo le scritture. Deve seguire la preghiera, l'elemosina, il digiuno, capite come è richiesto in Matteo 6. Quindi le opere bisogna che ci siano, non per essere salvati, perché non è per opere che si viene salvati, ma è dopo essere salvati le opere manifestano se siamo stati salvati, capite? Sono la conseguenza naturale della salvezza, le opere. Se non ci sono opere, in uno che dice di essere credente, sicuramente non ha ricevuto nulla, non è stato magari veramente salvato, o si è sviato, capite? Quindi le opere sono importantissime, ma non per ottenere la salvezza, ma perché sono una conseguenza naturale della salvezza che si è ottenuta. infatti in Giacomo capitolo 2 leggiamo queste parole, questa esortazione, che riguardano le opere. In Giacomo leggiamo queste parole. Capitolo 2 di Giacomo, il versetto 14, dal versetto 14, Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Infatti, fratelli, ma che giova? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e un di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi, sattollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta, lo capite? Cioè, se noi diciamo di amare Dio, se noi diciamo di essere credenti e non facciamo del bene, non facciamo le opere che ci sono richieste di fare dalla scrittura e non dagli uomini, dalla scrittura, dalla parola di Dio, da Dio, se non facciamo queste opere, la fede è morta, dice Giacomo. Lo dice Giacomo e fa anche degli esempi. Ma se io, vicino a me, ho un fratello che sta morendo di fame, che è nudo, che diciamo non ha il necessario e io dico di amare Dio e gli dico pace fratello, vai a scaldarti, vai a mangiare, se quello non ha di che mangiare. Io non sto mettendo in pratica quella fede, capite? Io non mi sto conducendo, non mi sto conducendo come piace a Dio, non mi sto conducendo come devo comportarmi. quindi la fede è morta, dice Giacomo. Se alla fede che abbiamo ricevuto quando siamo stati salvati non aggiungiamo le opere, questa fede muore. E queste opere riguardano a partire dalla santificazione, dal conservarsi puri dal mondo, da separarsi da tutto quello che ci contamina che è del mondo, fino a tutto il resto delle opere, compresa la preghiera di cui oggi stiamo argomentando. Capite? Le opere sono importanti, ma non per ottenere la salvezza, ma come conseguenza, quindi un credente che non si conduce come deve, le cose sono due, o si è sviato o non si è mai realmente convertito. Queste sono le cose, capite? Non ci sono altre possibilità. Naturalmente ci sono anche quelli, prendiamo ad esempio i cattolici, no? loro moltiplicano le opere, fanno tante opere, è vero, ci sono le opere, io non discredito le opere, se danno da mangiare a un povero, è sempre un'opera buona, che io riconosco. Tuttavia, loro lo fanno per essere salvati, è l'obiettivo che sbagliano, non l'opera in se stessa. Cioè, perché la salvezza non si ottiene con le opere? La salvezza si ottiene per fede, per fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto, la rigenerazione, è Dio che la compie. Quindi le opere hanno un valore davanti a Dio solamente se, solamente se, seguono, seguono, vengono compiute dopo che si è salvati. A proposito di questo, questo lo voglio, adesso voglio aprire questa parentesi, voglio aprire questa parentesi per farvi capire che differenza ci deve essere tra le opere che fa un credente e tra le opere che invece possono fare tanti ma non sono salvati. Se noi leggiamo le parole che Dio manda a dire a Cornelio, noi ci rendiamo conto di alcune cose. Adesso apriamo questa parentesi sulle strettamente che riguardano le opere e la salvezza. Se noi leggiamo al capitolo 10 di Atti degli Apostoli, capitolo 10, i primi versetti, sta scritto così Or vi era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pio e temente il Dio con tutta la sua casa. E faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno verso l'ora nona del giorno che sarebbe la terza ora sono le nove, la sesta ora e mezzogiorno alle quindici del pomeriggio. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio ed egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose che v'è signore? E l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro. E insomma poi gli dà tutte le direttive per andare a far chiamare Pietro. Perché lo fa chiamare? Lo fa chiamare Pietro perché Pietro gli deve annunziare l'Evangelo. Infatti Cornelio si converte solo dopo che Pietro gli ha annunziato l'Evangelo e la salvezza Pietro la riceve solamente dopo che ha creduto nel messaggio dell'Evangelo che gli ha annunzato Pietro. Questo lo leggiamo più avanti. Questo si legge al capitolo 11 di Atti dove Pietro racconta la visione che Cornelio ha avuto. Lo leggiamo dal versetto 11-13 di Atti leggiamo queste parole ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto manda a Ioppe e fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Vedete? Vedete che non era salvato benché guardate bene che le opere di Cornelio erano salite a Dio come una ricordanza cioè le opere buone sono sempre opere buone io non sto annullando degli effetti che portano le opere buone ma in quegli effetti che portano le opere buone comunque non c'è la salvezza badate bene un'opera buona è sempre un'opera buona però non portano alla salvezza infatti abbiamo letto che l'angelo gli ha detto di far chiamare Pietro che gli avrebbe annunziato l'Evangelo perché la salvezza si ottiene solamente per la fede attraverso il messaggio dell'Evangelo e attraverso la fede nel sacrificio di Cristo Gesù però vedete le opere Cornelio era abbondante proprio di quelle opere di giustizia che sono citate in Matteo 6 lui abbondava ma non erano non erano quelle che lo hanno portato alla salvezza infatti Dio la parola stessa loda a quest'uomo che diceva che era Pio quindi era molto religioso temeva il Dio con tutta la sua casa addirittura faceva molte elemosine al popolo pregava il Dio del continuo e poi in un altro punto c'è scritto che digiunava anche quindi vedete compiva tutte queste opere che sono hanno una certa importanza davanti a Dio ma quello che non possono fare le opere è quello di salvare capite? non possono salvare le opere certo che un'opera buona è sempre un'opera buona e Dio saprà ricambiare quell'opera ma la salvezza non è una conseguenza delle opere assolutamente le opere devono essere una conseguenza della fede della salvezza ottenuta infatti Giacomo ha detto che se non ci sono le opere senza le opere la fede è morta fratelli e tra le opere adesso torniamo in Matteo 6 tra le opere che Dio ci richiede di fare c'è la preghiera io capisco l'elemosina ci vogliono i soldi non ho i soldi per fare l'elemosina non la posso fare abbondantemente quest'opera no? va bene quello si se uno è disoccupato non ha un soldo è chiaro non ha niente da dare ma la preghiera non costa nulla ti devi inginocchiare c'è bisogno di tempo e di un luogo segreto dove inginocchiarsi il digiuno non costa nulla anzi risparmi con il digiuno che non consumi niente allora ti inginocchi davanti a Dio tutta la giornata non mangi nulla non bevi nulla e preghi tutto il giorno il Dio ecco le opere che piacciono a Dio e tu riceverai grandi benedizioni perché avrai passato del tempo davanti al trono della grazia in comunione stretta con Dio avrai passato del tempo perché sappiate che alla presenza di Dio scritto in un salmo alla presenza di Dio ci sono gioie a sazietà alcuni tra i credenti sono sempre tristi vivono il cristianesimo come una malattia non sono mai allegri infatti c'è anche il comando di Paolo no? siate sempre allegri ma questo può avvenire se noi andiamo alla presenza di Dio in preghiera ma se noi non ci andiamo mai non abbiamo comunione con Dio non abbiamo pace non abbiamo gioia dentro di noi e questo può essere dovuto o perché viviamo nel peccato quindi proprio in una condizione totale assoluta di peccato oppure non andiamo mai in preghiera e quindi non andiamo a trovare il Signore al trono della grazia e di conseguenza non possiamo gustare le gioie che ci sono alla presenza di Dio quindi la tristezza fratelli deve essere bandita da mezzo in noi io lo so che abbiamo tanti tutti e cominciare da me problemi tutti i giorni e una lotta continua tra far quadrare i conti familiari tra risolvere i problemi di lavoro e una lotta continua contro tutti anche contro i vicini ma dentro di noi deve esserci la gioia della presenza dell'Idio vivente che ci aiuta a superare ogni tipo di problema il problema c'è è vero per tutti ma Dio ci aiuta a sostene ci sostiene e ci aiuta a risolvere ogni questione capite quindi andiamo con piena fiducia davanti al trono della grazia e non c'è nessuno che non è degno badate bene io sto parlando dei credenti perché il credente deve andare a Dio certo a chiedere anche perdono dei suoi peccati ma deve andare poi a intercedere per gli altri fratelli e lodarlo glorificare Dio chiedere tante cose davanti al Signore chi non è ancora credente si deve inginocchiare e chiedere misericordia per ottenere la salvezza e certo lo deve fare questo quindi anche se qui magari siamo tutti credenti quando parliamo con qualcuno che non è credente diciamoglielo tu ti devi inginocchiare e gridare a Dio fino a quando egli non ti risponde ti dà la salvezza perché le opere che tu fai puoi fare tutte le opere buone che vuoi non puoi essere salvato per quelle opere anzi se tu ti presenti davanti a Dio con la bilancia e metti da una parte le tue opere buone sappi che nell'altra parte Dio metterà le tue opere cattive quindi la bilancia sicuramente sarà più pesante dalla parte della malvagità nostra della malvagità di tutti gli uomini quindi ecco perché non si può essere salvati per opere capite per opere non si può essere salvati perché non siamo in grado nessun uomo nessuno nessuno può essere mai in grado di essere salvato con le buone opere perché non c'è nessun uomo come è scritto in Romani che può fare la volontà di Dio non c'è nessun uomo che è buono non c'è nessun uomo siamo tutti corrotti dentro la nostra carne dopo il peccato di Adamo la corruzione della carne è rimasta in tutti gli uomini non si nasce buoni si nasce peccatori si nasce con il peccato di Adamo perché la morte raggiunge anche i bambini capite la morte è una conseguenza del peccato i bambini se fossero santi se fossero santi non dovrebbero morire invece muoiono anche i bambini perché perché il peccato originale il peccato di Adamo grava anche sui bambini infatti addirittura il salmista dice io sono stato concepito nel peccato quindi già già i genitori quando concepiscono un bambino già peccano già peccano e quindi questo peccato passa sul fanciullino lo so che sono discorsi che magari taluni non hanno mai sentito ma le cose stanno così adesso ne stiamo solo accennando ma ci sono tanti passaggi che dimostrano queste cose adesso ci sto solo passando per ricordare questo questo fatto comunque per tornare al nostro soggetto della preghiera bisogna pregare Dio bisogna pregare e la preghiera in se stessa rappresenta due cose uno è un'opera gradita a Dio la seconda cosa è che se uno ha fiducia in Dio e conosce le scritture e sa che Dio gradisce questo lo fa capite? lo fa quindi è fede in Dio pregare è una manifestazione di fede in Dio pregare è un avere coscienza di quello che si è noi siamo credenti abbiamo bisogno della comunione con Dio questa comunione si ottiene andando in preghiera in ginocchio tutti i giorni e lo facciamo e fa parte dei nostri doveri che non costano nulla non c'è bisogno di un patrimonio o di un capitale che non è un'opera buona è solo quello di dare soldi le opere buone sono anche altre tra cui pregare mettere a disposizione il proprio tempo aiutare un fratello che ha bisogno aiutare una donna incinta quando è incinta una sorella incinta una donna incinta aiutare un anziano fargli compagnia le opere sono tante fratelli se uno non ha denaro perché anche se c'è denaro e lo dai però devi fare il resto lo devi fare lo stesso devi sacrificare te stesso il tuo tempo devi sacrificare il tuo patrimonio mettere a disposizione dei bisognosi e devi pregare Dio ancora tempo vedete è sacrificio è in ginocchio fanno male le ginocchie però poi vi fortificherete il beneficio che ne avrete sarà molto superiore al sacrificio che si farà adesso continuiamo nella nostra lettura capitolo 6 di Matteo che qui se non mi ottengo il testo poi dura dura molto qui allora capitolo 6 Matteo 6 leggiamo dal versetto 5 quindi abbiamo letto nei primi versetti di Matteo dove spiegava genericamente che diciamo le lemosina la preghiera il digiuno fanno parte della giustizia dell'uomo quindi una giustizia che Dio vuole che noi pratichiamo non per essere salvati ma per perché siamo già stati salvati dobbiamo praticare queste cose è una conseguenza al versetto 5 leggiamo 6 5 di Matteo e quando pregate non siate come gli ipocriti poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoge e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa orazione al padre tuo che è nel segreto il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa vedete quindi fratelli non dobbiamo essere ipocriti quando preghiamo pubblicamente allora io ci tengo a dirvi che sono tra quelli che vogliono che quando i fratelli si riuniscano pregano tutti perché bisogna imparare a uscire da quell'uovo nel quale magari taluno si è rinchiuso e bisogna pregare tutti non c'è né timidezza abbiamo tutti lo spirito di Dio a parte che nessuno deride il fratello assolutamente se lo dovessi vengo a sapere che un fratello viene deriso per la sua preghiera cosa è grave nessuno deve deridere l'altro a parte che non siamo in grado di deridere nessuno perché tutti noi falliamo in molte cose quindi dobbiamo sviluppare una preghiera pubblica che è diversa da quella privata da quella personale che facciamo in segreto però dobbiamo sviluppare anche quella pubblica dobbiamo concentrarci e esaminare come si fa una preghiera pubblica qui in questo caso però stiamo mi sto riferendo in modo particolare alla preghiera quella quella che facciamo da soli infatti 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 capite qualche fratello sorella fanno delle lunghe orazioni signore poi a casa non pregano mai da soli non vanno mai a incontrare il signore questo perché perché lo fanno soltanto per essere visti lo fanno per apparire spirituali davanti agli altri noi invece che vogliamo acquistarla questa spiritualità vera davanti a Dio ci inginocchiamo davanti a Dio quando nessuno ci vede cerchiamo un luogo segreto chi ha una seconda casa la casa in campagna chi ha un luogo insomma ognuno io ad esempio uso la mia cameretta mi chiudo dico a tutta la famiglia di non disturbarmi e mi chiudo lì e so quando entro ma non so quando esco quindi mi chiudo lì e con la mia Bibbia con i miei librettini dei cantici e con anche con una penna e con dei foglietti perché se il signore mi dovesse dare un messaggio mi dovesse dare qualcosa io me lo annoto fratelli cioè quando si fanno le cose ti devi preparare devi essere pronto a tutto anche con la lista di preghiere è chiaro la lista di intercessione perché molte cose me le ricordo a memoria ma altre volte altre volte non c'è la lista di tutti i fratelli per non saltarne neanche uno quella io l'ho fatta ce l'ho e la tiro fuori al momento opportuno chiedendo specificamente per ciascuno quello che so di cui ha bisogno se lo so se non lo so prego genericamente un'altra cosa un'altra cosa che ho nella mia preghiera è una carta geografica fratelli e sorelle è una carta geografica procurata da vabbè ci sono tante cose negative in porte aperte no però io mi affido alla cartina gli ho dato credito quindi mi sono strappato in una di quelle riviste una cartina del mondo dove ci sono i paesi che sono indicati come quelli dove i nostri fratelli sono perseguitati va bene quindi mi procuro anche questa cartina e prego in base a quello che mi sento in quel momento per diverse nazioni per i credenti diverse nazioni come sono indicate nella cartina quindi vedete accennandovi tutte queste cose voi capirete bene che per fare tutto il nostro dovere non può durare cinque minuti la nostra preghiera capite e neanche per fare bene bene il nostro dovere neanche mezz'ora a volte neanche un'ora dobbiamo fare veramente cioè dobbiamo dedicare del tempo cioè bisogna proprio andare come si va ad incontrare un amico no si va e si parte c'è il viaggio c'è e si rimane lì non si sa quando si finisce di parlare e poi si ritorna quindi non si sta lì cinque minuti e qui tanto più in preghiera siccome andiamo a trovare l'iddio che ha fatto i cieli e la terra l'iddio che ha fatto tutte le cose l'iddio che ci ha salvati che ci ha scampati dall'inferno andiamo a trovare quell'iddio nel nome di Gesù Cristo e allora dobbiamo dobbiamo dedicargli del tempo come lui ha stabilito come lui ci fa sentire quindi quindi ci vuole del tempo ci vuole impegno quindi ci vuole organizzazione come vi ho fatto vi ho presentato alcune cose che riguardano la mia preghiera io cito il mio esempio di preghiera ma credo che ce ne siano anche tanti altri che vi possano dire cosa fanno loro in preghiera poi ognuno personalizza il suo tempo in preghiera e fa quello che si sente di fare l'importante è che quando torna dal viaggio abbia svuotato tutti i suoi peccati tutti i suoi problemi tutte le sue ansietà le sue tribolazioni le abbia presentate davanti a Dio il Dio pulisce dai peccati alleggerisce le ansietà e le tribolazioni e ci dà un cuore sereno ci dà un cuore gioioso capite noi facciamo questo viaggio carichi di peso gravoso a volte e quando torniamo siamo più leggeri siamo molto più leggeri ma per il nostro bene capite è stato un bene fare questo viaggio se non facciamo questo viaggio il carico rimane tutto su di noi sappiatelo a cominciare dai peccati si accumulano poi si accumulano e il peso diventa sempre più schiacciante e allora quando facciamo questo viaggio in preghiera non lo dobbiamo fare in vista cioè non lo dobbiamo fare per farci vedere dagli altri non dobbiamo vantarci davanti agli altri oggi ho pregato due ore tre ore cinque ore sei ore perché altrimenti altrimenti si perde il premio davanti a Dio capite quindi così come l'elemosina e così anche come il digiuno quindi lo si fa lo si fa in maniera segreta andando avanti adesso nel nostro testo leggiamo ancora il versetto 7 e nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole non li rassomigliate dunque poiché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate voi dunque pregate così vabbè dopo parleremo anche della preghiera del padre nostro adesso mi volevo soffermare su queste parole le parole che dice i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole con questa frase mi fa ricordare una cosa che fanno i cattolici ad esempio fanno il rosario no allora dicono una preghiera a memoria per ogni pallino che hanno nel loro rosario loro pensano di essere esauditi per il numero di preghiere di parole che dicono contemporaneamente capite che dicono diciamo in quel momento cioè pensano di essere esauditi per la moltitudine delle parole invece non è così non sono queste preghiere che Dio ascolta non sono queste preghiere che Dio esaudisce non è il numero di parole che si usano ma è il cuore che ci si mette capite quando si prega non si prega solo con la bocca si si prega anche con la bocca magari ma talvolta come faceva Anna vi ricordate Anna l'abbiamo letto prima Anna muovevasi le labbra ma non usciva voce dalla sua bocca perché perché pregava in cuor suo e il suo cuore è stato presentato davanti a Dio infatti è stata esaudita perché era una donna sterile e quella preghiera fu ascoltata e dopo rimase incinta e Dio gli diede un figlio di nome Samuele di cui ancora oggi si parla capite il profeta Samuele quindi vedete quando si fanno le preghiere col cuore non soltanto con la bocca con la bocca a volte è necessario perché se preghiamo pubblicamente ci dobbiamo mettere anche la voce e se no che preghiera pubblica è però quello che non deve mancare mai sia nelle preghiere pubbliche con la voce e sia con quelle senza voce quando facciamo nei nostri luoghi segreti è il cuore bisogna pregare con tutto il nostro sentimento cioè dobbiamo essere concentrati quando andiamo in preghiera dobbiamo essere concentrati alla visita a Dio che stiamo facendo capite non dobbiamo essere disturbati dai pensieri adesso adesso dopo devo lavare i piatti dopo devo andare a lavorare dopo devo fare questo e quest'altro se sei in preghiera tu devi pensare solo a pregare Dio a lodare Lui tutti gli altri pensieri ti stanno disturbando li devi spazzare via dalla tua vita li devi eliminare ti stanno soffocando spiritualmente quei pensieri quindi li devi cacciare via ecco quindi non lasciate il fuoco acceso quando andate a pregare ecco perché ci vuole una preparazione prima staccate i cellulari così non li sentite squillare e non vi disturbano staccate i telefoni non lasciate nulla sul fuoco non lasciate macchinari strani accesi che possono disturbare voi dovete prepararlo il viaggio capite si prepara il viaggio questa preghiera si prepara non deve esserci nulla che vi disturba e quindi potrete veramente godere della comunione con Dio alla presenza di Dio e si viene esauditi se si prega con tutto il cuore con tutto il cuore ora la scrittura ci insegna anche ora parleremo anche di alcune cose che sono importanti cioè come quali sono gli elementi necessari per ottenere l'esaudimento della preghiera e sì perché ci sono delle cose cioè le nostre richieste che cosa c'è bisogno che il credente deve fare per ottenere l'esaudimento della preghiera e la scrittura ci insegna anche in questo ad esempio cominciamo col primo elemento necessario che è questo lo leggiamo in Giovanni capitolo 9 capitolo 9 qui si parla del cieco nato praticamente questo qui era nato cieco Gesù l'ha guarito e poi è stato interrogato dai giudei dai capi dei giudei per sapere come mai era stato guarito insomma c'è stato un lungo discorso che voi vi leggerete poi il capitolo 9 di Giovanni da soli ma alla fine questo questo cieco nato che era cieco sì adesso comunque ci vedeva ma aveva sapienza e infatti risponde a chi lo interrogava risponde con queste parole che siccome i capi dei giudei pensavano che Gesù fosse peccatore il cieco nato risponde con queste parole quindi capitolo 9 del Vangelo di Giovanni dal versetto 30 Quell'uomo rispose e disse loro questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia eppure mi ha aperto gli occhi si sa che Dio non esaudisce i peccatori ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà quello egli esaudisce vedete quindi uno dei primi elementi che dobbiamo considerare perché un credente sia esaudito nella sua preghiera è che non bisogna vivere nel peccato questo non vuole dire attenzione che non pecchiamo mai non c'è nessuno che possa dire che non pecca durante la giornata però una cosa è cadere nel peccato un'altra è vivere nel peccato sono due cose ben distinte vivere nel peccato è uno che è adultero oppure convivente con un altro un fornicatore o uno che è omosessuale che non ha la minima intenzione di abbandonare lo suo stato di peccato anzi ci sguazza di continuo poi quando ha un problema che fa si mette a pregare Dio anche se dice di essere cristiano prega Dio e pensa di essere esaudito e no vive nel peccato e qui qui la scrittura ci dice che Dio non esaudisce i peccatori cioè quelli che vivono e sguazzano nel peccato i credenti tutti noi sbagliamo in qualche cosa però non è che non dobbiamo vivere nel peccato essere peccatori vuol dire vivere nel peccato quindi non possiamo dire noi tra i santi non possiamo dire noi che siamo i santi dell'eterno dire noi siamo peccatori siamo tutti peccatori questa frase non la possiamo dire se la diciamo ci dobbiamo ravvedere perché perché vuol dire se la diciamo vuol dire che è vera se io dico di essere di essere un peccatore vuol dire che vivo nel peccato vuol dire che ci sono dei peccati che bisogna abbandonare bisogna lasciare capite un fornicatore un adultero un adultero che diciamo si continua a vedere continuamente con la sua amante quello è un peccatore anche se è un credente perché ci sono credenti che hanno l'amante purtroppo anche pastori hanno l'amante hanno l'amante e se la mantengono capite quindi 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 il dio non esaudisce quelli che vivono nel peccato di conseguenza per essere esauditi nella preghiera dobbiamo esaminare noi stessi ecco questo è importante questo elemento perché quando noi vogliamo essere esauditi dobbiamo esaminare noi stessi dobbiamo vedere quali peccati sono ancora radicati nella nostra vita e li dobbiamo abbandonare dobbiamo lottare con tutto noi stessi per vincere e per abbandonare questi peccati capite per essere per ottenere l'esaudimento della preghiera quindi quindi questo è uno degli elementi non è l'unico ma è uno quindi dobbiamo santificarci dobbiamo eliminare esaminare noi stessi ed eliminare ogni cosa che non va bene nella nostra vita il secondo elemento uno dell'elemento tra i più importanti lo leggiamo ce lo dice Giacomo ce lo dice Giacomo al primo capitolo capitolo 1 Giacomo dal versetto 5 ed è la fede se uno non prega con fede non può ottenere l'esaudimento della preghiera questo ce lo dice Giacomo in questi versetti che se alcuno di voi manca di sapienza la chiega a Dio che dona a tutti liberamente senza rinfacciare e gli sarà donata ma chiega con fede senza star punto in dubbio perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore vedete chi prega senza avere fede in Dio chi prega senza sapere chi è Dio chi prega senza veramente avere quella certezza che Dio è potente da ascoltare e da esaudirlo ma quello lì è un uomo instabile è un uomo doppio è un uomo che non sa quello che sta facendo capite quindi non ha fede in Dio non verrà esaudito qui Giacomo dice non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore nulla non solo la sapienza perché qui Giacomo è partito nel parlare che non si riceve la sapienza se non si ha fede ma qui dice addirittura nulla quindi non solo non si riceve sapienza ma non si riceve proprio nulla dal Signore se non si prega avendo fede la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedano quindi è certezza nella fede c'è certezza capite c'è certezza di ricevere quello che stiamo chiedendo da Dio c'è una certezza quindi la fede è importante che ci sia non è possibile non è possibile pregare Dio e ottenere qualcosa se non si prega con fede sempre Giacomo andando avanti ci dice ancora altri elementi necessari che riguardano la preghiera al capitolo 4 sempre di Giacomo leggiamo al versetto 2 voi bramate e non avete voi uccidete e invidiate e non potete ottenere voi contendete e guerreggiate non avete perché non domandate domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri vedete qui Giacomo dice che ci sono quei credenti che non ricevono perché non domandano infatti Gesù cosa ha comandato siano tutte le vostre richieste rese note a Dio in preghiera tutte le richieste badate bene tutte le richieste non solo non solo non solo qualcuna ma tutte le nostre richieste devono essere rese note a Dio in preghiera taluni non ricevono perché non ricevono non ricevono perché non le domandano quelle cose ecco quindi quello che noi vogliamo e desideriamo dobbiamo ricordarci dobbiamo ricordarci di domandarle in preghiera le dobbiamo domandare capite perché se non le domandiamo vuol dire che non ci verranno date non le desideriamo veramente poi dice anche qui Giacomo domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri è come dire no signore io ti chiedo di trovarmi un lavoro va bene perché così con i soldi che ricevo me ne vado in vacanza a sciare a prendere il sole al mare mi compro la macchina più grande per correre veloce nella strada capite cioè noi in quel caso quel tipo di persona chiede a Dio ma chiede per spendere male per spendere nei suoi piaceri quel tale neanche quel tale sarà esaudito da Dio perché sta domandando male per spendere nei suoi piaceri un'altra cosa è signore trovami lavoro affinché io possa poter contribuire ai bisogni della mia famiglia che sono poveri ai bisogni dei fratelli che sono poveri insomma a fare delle opere buone questa è un'altra richiesta vedete che differenza che c'è tra le due preghiere una è possibile che insieme a tutti gli altri elementi necessari verrà esaudita l'altra l'altra non verrà certamente esaudita anche se si prega con fede e io chiedo più soldi per andarmene in vacanza a prendere il sole al mare nudo no quello è per spendere nei miei piaceri non verrò esaudito con certezza lo dice Giacomo lo dice la parola di Dio poi c'è un'ultima considerazione allora tutti questi elementi badate bene tutti questi elementi che sono necessari dipendono dipendono dall'uomo cioè sono diciamo dipendenti dall'uomo quindi è l'uomo che si deve applicare per per mettere in pratica quelle cose il il santificarsi cioè non vivere nel peccato avere fede in Dio quindi deve studiare le scritture per crescere nella fede e poi deve domandarlo in preghiera quindi deve pregare e poi non deve deve desiderare di avere le cose per il bene del Signore per il bene dell'opera del Dio vivente per il bene di tutta la Chiesa quindi quindi questa persona che deve ognuno di noi deve mettere in atto queste cose però c'è un altro elemento necessario per ottenere l'esaudimento della preghiera quest'ultimo elemento non dipende da noi e lo troviamo scritto al capitolo nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 al versetto 13 io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio e questa è la confidenza che abbiamo in Lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce e se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate vedete qui c'è una condizione quindi le condizioni per ottenere l'esaudimento della preghiera tra quelle che abbiamo visto prima che sono condizioni su cui deve lavorare ogni singolo credente c'è una condizione che non dipende dal credente che non dipende dall'uomo ma questa ultima condizione dipende da Dio infatti Giovanni dice che se chiediamo qualcosa che è secondo la sua volontà Egli ci esaudisce vedete quindi questo perché perché noi possiamo domandare qualcosa che sia secondo la volontà di Dio allora Egli ci esaudisce se ci sono anche tutte le altre condizioni ma se noi domandiamo qualcosa che non è secondo la volontà di Dio Egli non ci esaudisce cioè non è detto che Dio debba esaudirci tutte le preghiere che noi facciamo anche se preghiamo con fede anche se siamo dei santi a questo punto io vi ricordo fratelli vi ricordo la più importante preghiera o meglio la preghiera della persona che è vissuta sulla terra la più importante di tutti che è Gesù la notte che fu tradito Gesù quando era nel Gezzemani fece questa preghiera Signore allontana da me questo calice ma non la mia volontà sia fatta ma la tua vedete questa preghiera fondamentalmente non è stata esaudita o meglio non è stata esaudita perché la morte di Cristo e Dio non lo ha liberato perché la richiesta di Gesù era di allontanare da lui la sofferenza e la morte ma è per questo che è venuto sulla terra ma vedete questa preghiera è stata fatta da Gesù non tanto perché lui non voleva cioè è stata fatta perché era veramente anche uomo era vero uomo anche sulla terra Gesù non era soltanto vero Dio ma anche vero uomo quindi veramente se andiamo a lui in preghiera se lo invochiamo potete stare tranquilli che lui capisce veramente la nostra natura la nostra debolezza perché lui lui le ha sentite proprio nella sua carne quando è venuto in carne in vera carne simile dobbiamo dire simile a quella dell'uomo perché la carne dell'uomo nella carne d'uomo c'è la corruzione mentre nella carne di Cristo non ce n'era corruzione questo lo dobbiamo dire altrimenti non poteva essere il sacrificio perfetto che è stato compiuto però era 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 simile alla carne d'uomo era simile a noi quindi aveva sentiva diciamo tutte le nostre tutto quello che sentivamo noi anche anche il timore della morte anche quel momento finale il sacrificio che doveva compiere capite e questa preghiera è stata fatta in questa maniera per nostra consolazione per farci capire che lui veramente ha vissuto sulla terra non ha vissuto soltanto come vero Dio perché ha vissuto anche come vero Dio sulla terra che non ha peccato mai ma ha vissuto anche come uomo quindi ha sentito le medesime cose le medesime dolori e sofferenze che abbiamo sentito noi capite è stato molto vicino a noi ci può capire ecco perché dobbiamo andare a lui con piena fiducia che ci capisca qualsiasi cosa noi ci sentiamo di domandargli perché egli ci capisce pienamente perché molte cose le ha vissute anche lui quindi questa preghiera vedete infatti non è stata fatta la volontà di Gesù ma è stata fatta la volontà di Dio poi in ebrei leggiamo che questa preghiera ha avuto un frutto la preghiera di Gesù che è stata quella di che Dio ha allontanato da lui il timore della morte cioè non ha non l'ha esaudito questo lo leggiamo in ebrei al capitolo in ebrei lo leggiamo al capitolo 5 5 sì 5 dal versetto 7 il quale che sta parlando di Gesù il quale nei giorni della sua carne avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte ed avendo ottenuto di essere liberato dal timore benché fosse figliolo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì vedete fu liberato dal timore della morte cioè non fu esaudito perché lui è venuto per morire sulla croce è venuto ed è morto infatti e quindi Dio non lo ha liberato dalla morte ma lo ha liberato dal timore della morte vedete ma questo è come esempio vedete come benché Gesù fosse santo fosse pieno di fede pure questa preghiera non fu esaudita pienamente perché se l'esaudimento della preghiera fosse dipeso soltanto dalla santificazione e dalla fede Gesù sarebbe dovuto essere esaudito ma no c'era un'ultima cosa ma Gesù comunque l'ha citato nella sua stessa preghiera e faremo bene ognuno di noi ogni volta che prega di ricordarsi di chiedere di dire sempre non la mia volontà sia fatta ma la tua perché magari abbiamo potuto chiedere qualcosa nella preghiera che non era secondo la volontà di Dio quindi noi comunque rimane ferma la nostra volontà che noi vogliamo che Dio porti avanti la sua di volontà non la nostra a scapito dei suoi piani e dei suoi disegni quindi questa preghiera di Gesù ci deve far capire ci fa capire che l'ottenere l'esaudimento della preghiera è fondamentale anche che ciò che abbiamo chiesto sia secondo la volontà di Dio capite? che sia secondo la volontà di Dio è importantissimo questo perché faccio un esempio se io domandassi a Dio signori Dio io voglio essere voglio diventare profeta e prego tutti i giorni per diventare profeta ma se Dio ha stabilito a me di rendermi un dottore o di rendermi un pastore o di rendermi un apostolo o un evangelista io anche se sto chiedendo di diventare un profeta non verrò esaudito anche se ho fede in Dio anche se sono santo anche se mi sto santificando anche se lo sto chiedendo con tutto il cuore ma se i piani i disegni di Dio sono un'altra cosa io non verrò esaudito perché Dio ha un altro piano per me come aveva un altro piano nel caso di Gesù un altro disegno per il nostro bene Gesù doveva morire per la nostra salvezza quindi si è ecco questo vi sto facendo capire vi sto citando sto insistendo su questo elemento per farvi capire che a volte se voi non siete esauditi nella vostra preghiera non è perché voi non avete fede oppure siete per forza di cose nel peccato ma può essere semplicemente che o non è ancora arrivato il tempo o non è volontà di Dio di darvi una determinata cosa capite però attenzione il Dio anche vi darà qualcosa in cambio come ho fatto con Gesù cioè non è che le preghiere che comunque hanno una certa è giusto fare anche se non vengono esaudite perché Dio ha un altro piano un altro disegno oppure però ricevono la loro benedizione da Dio non verranno magari esaudite però faccio un esempio se io chiedo signore una donna un uomo che si sono magari sentono un desiderio verso quel fratello che c'hanno le vicine dico signore fallo innamorare di me fallo perché io gli voglio bene quella e Dio non lo fa questo perché perché magari ha stabilito un altro marito un'altra moglie che va meglio di quella persona lì capite quindi il fatto che Dio non esaudisca esattamente la nostra preghiera non vuol dire che non l'ha ascoltata non vuol dire che l'ha disprezzata e l'ha gettata via vuol dire che per noi ha in serbo altre cose altre cose quindi non vi scoraggiate non vi scoraggiate perché pregate pregate Dio non vi fermate non vi lasciate andare perché sapete a volte anche il tempo non è quello giusto e noi pensiamo che sia giunto invece Dio ha il suo tempo per compiere ogni cosa quindi continuiamo a insistere continuiamo a pregare Dio per ogni cosa che noi ci sentiamo di pregare col nostro vivo desiderio preghiamo insistiamo bussiamo senza fermarci perché questa è cosa gradita a Dio non ci fermiamo poi l'esaudimento della preghiera quella dipende da tutti questi fattori che io vi ho citato quindi quindi anche se voi ce l'avete messa tutto avete fatto tutto e non venite esauditi e non veniamo esauditi perché io sono compreso non vi preoccupate vuol dire che Dio ha un altro disegno e va bene così va bene così capite quindi abbiate pazienza abbiate pazienza imparate a soffrire ad aspettare a insistere a domandare a Dio con continuità perché questo sono cose gradite a Dio noi ci dobbiamo trovare un giorno a ottenere il premio il premio della vita eterna quello è quello che non dobbiamo mancare quindi facendo tutte praticando tutte queste cose e avendo pazienza e aspettando che Dio operi quindi vedete fratelli ci sono anche tutti questi elementi da considerare quando si prega adesso leggiamo leggiamo la preghiera del Padre Nostro io in verità ero partito col quando pensavo di parlarvi della preghiera di soffermarvi in maniera particolare sulla preghiera del Padre Nostro ma poi come molte volte succede gli argomenti sono tanti e i discorsi vanno qua e là comunque continuiamo nel nostro testo principale che è Matteo 6 adesso leggiamo la preghiera del Padre Nostro e facciamo qualche riflessione anche su quello 6 9 di Matteo voi dunque pregate così Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno perché se voi perdonate agli uomini i loro falli il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli quindi vedete la preghiera del Padre Nostro è una di quelle preghiere che bisogna imparare a memoria a memoria ma non tanto per recitarla a memoria la preghiera del Padre Nostro va imparata a memoria perché in essa c'è la struttura fondamentale che deve contenere una preghiera che adesso andiamo ad esaminare la struttura fratelli come deve essere come deve essere strutturata una preghiera quindi questa la dovete studiare attentamente per vederne i vari livelli affinché anche la vostra preghiera libera di tutto cuore quando la fate nel vostro luogo segreto nella vostra cameretta voi la fate la strutturate correttamente ad esempio la preghiera del Padre Nostro inizia appunto con la parola padre cosa ci fa capire questo che c'è un rapporto cioè noi invochiamo qualcuno col quale abbiamo un rapporto capite che rapporto c'è tra noi e Dio egli è il nostro giudice se è il nostro giudice allora vuol dire che non siamo ancora salvati vuol dire che ancora i nostri peccati non sono stati lavati ma se un giorno noi siamo stati rigenerati spiritualmente siamo stati salvati ecco che è nato un rapporto tra noi perché Dio ci ha rigenerati ci ha fatto diventare i suoi figlioli quindi è diventato nostro padre quindi quando noi ci inginocchiamo davanti a Dio dobbiamo dire prima di tutto padre nostro ci ricordiamo così dell'opera che Dio ha fatto per noi che ci ha salvati quindi è doveroso è doveroso nella nostra preghiera prima di tutto rivolgerci al padre nel nome di Gesù Cristo e ricordare che egli ci ha salvati quindi grazie signore ti ringraziamo signori Dio che tu ci hai salvati che hai avuto pietà di noi hai avuto misericordia di noi e ci hai salvati e noi non meritavamo di essere salvati capite anche questa parola vedete dietro deve esserci una ci fa capire ci fa capire quello che noi poi dobbiamo chiedere in preghiera capite quindi la preghiera del padre nostro inizia appunto in questa maniera padre nostro quindi il rapporto che abbiamo noi con il padre poi dice che sei nei cieli infatti il Dio nostro è nei cieli egli abita nel terzo cielo è nel suo trono e a lui va tutta la gloria quindi tutte le parole che seguono fino a un certo punto ci fanno capire che dobbiamo glorificare Dio cioè si è santificato il tuo nome quindi all'inizio vedete dopo i ringraziamenti dopo aver riconosciuto quello che Dio ha fatto per noi dobbiamo poi riconoscere a chi ci stiamo rivolgendo stiamo pregandoli Dio vivente e vero che con braccio potente con mano potente braccio disteso ha aperto il Mar Rosso ha fatto passare il suo popolo attraverso il Mar Rosso e il suo nome è grande potente egli è santo si è santificato il suo nome vedete quindi bisogna dargli lode onore e gloria c'è un momento in cui nella nostra preghiera che dobbiamo lodare onorare e glorificare il Signore ce lo viene richiesto strutturalmente appunto dalla preghiera una delle preghiere più importanti quella preghiera che Gesù ha dato ai suoi discepoli per insegnare loro a pregare perché Gesù quando ha citato la preghiera del Padre Nostro l'ha fatto per insegnare ai suoi discepoli a pregare quindi se ha detto quella preghiera di fare Gesù un motivo ci sarà pure di conseguenza per imparare noi a pregare dobbiamo studiare strutturalmente oltre che nelle parole nelle singole parole anche studiare strutturalmente come è formata come è formata la preghiera del Padre Nostro e affinché ci adeguiamo a quella struttura non tanto a ripeterla a memoria ma la struttura la dobbiamo considerare ne dobbiamo tenere conto quindi abbiamo visto come sia fatta la tua volontà cosa vuol dire questo vuol dire che noi dobbiamo riconoscere che la volontà di Dio è superiore alla nostra capite la volontà di Dio è superiore alla nostra ecco perché qui c'è scritto sia fatta la tua volontà non la mia sia fatta ma la tua Signore Dio capite quindi bisogna riconoscere e chiedere che Dio operi quello che lui vuole una sottomissione a Dio che Dio faccia quello che fa nei cieli lo faccia anche sulla terra ma noi già lo sappiamo che Dio fa tutto ciò che gli piace dovunque già lo sappiamo però vuole il Signore che noi lo ricordiamo anche in preghiera lo vuole la struttura della preghiera più importante lo richiede e noi dobbiamo studiarci di farlo e andando avanti leggiamo il versetto 11 dacci oggi il nostro pane quotidiano cioè noi abbiamo delle esigenze questa parte riguarda poi c'è la parte che riguarda tutte le nostre esigenze dacci oggi il nostro pane quotidiano abbiamo bisogno di mangiare c'è chi ha bisogno di lavorare c'è chi ha bisogno di una moglie chi cerca un marito chi cerca qualsiasi cosa di cui ha bisogno quindi vedete questa preghiera del padre nostro ci insegna anche che viene il momento in cui dobbiamo chiedere ciò di cui abbiamo necessità qui il signore ha messo quello di cui abbiamo assoluta necessità ogni giorni del mangiare ma se abbiamo altre necessità presentiamole tranquillamente davanti a Dio senza nessun problema egli ci ascolta egli ci darà quello di cui abbiamo bisogno a suo tempo quindi preghiamo chiediamo anche quello di cui abbiamo bisogno e necessità poi dice rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi quando andiamo a Dio siccome abbiamo già detto che sbagliamo tutti in molte cose quindi ogni volta che andiamo in preghiera non ci dimentichiamo mai che dobbiamo chiedere che Dio ci perdoni e ci purifichi dai nostri peccati anche da quelli che ci sono occulti sì perché talvolta facciamo del male a qualcuno e non ci rendiamo conto non ce ne rendiamo conto che abbiamo fatto del male a qualcuno quindi dobbiamo chiedere a Dio anche del male a qualcuno abbiamo infranto qualche qualche legge del Signore quindi comunque sia noi risolviamo ogni cosa dicendo tra le altre cose i peccati che riconosciamo di aver commesso quelli li nominiamo e li presentiamo davanti a Dio e già chiediamo il perdono quelli che non conosciamo diciamo Signore perdonami dei peccati che mi sono occulti di quelli che ho commesso ma non mi sono reso conto di aver commesso ecco quindi chiediamo che ci vengano rimessi i nostri debiti cioè i nostri peccati però questa parte il Dio la lega a una condizione la remissione dei peccati è strettamente connessa a una condizione che è quella che se ci sono dei fratelli che hanno peccato nei nostri confronti dobbiamo rimettere loro questi peccati naturalmente se ci chiedono perdono cioè se un fratello ha sbagliato contro di noi e ci chiede perdono noi siamo obbligati a perdonare non è una cosa facoltativa ma senza esitazione però eh che sia sincero oppure no quello non spetta a noi non spetta a noi deciderlo sarà il signore dopo che prenderà le sue decisioni ma quando un fratello ha peccato contro di noi e ci chiede perdono siamo obbligati a perdonare perché cosa succederebbe altrimenti se noi non perdoniamo il nostro fratello egli è vero rimane legato perché il turbamento che lui ha non gli viene liberato però nello stesso tempo noi non veniamo liberati dai nostri peccati perché Dio non ci perdona i nostri peccati perché noi non abbiamo perdonato i peccati di chi ha peccato contro di noi capite è importantissimo il perdono cioè sul perdono sì è un nodo cruciale della vita del credente perché se uno mi chiede perdono ha sbagliato nei miei confronti mi chiede perdono io non perdono il cristianesimo crolla crolla tutto il cristianesimo ecco perché abbiamo ci siamo battuti in passato per questa parola perdono lo capite o no quanto è importante questa parola perdono non si può fallire su questo quello che è scritto è strettamente collegato ed è ampiamente descritto nelle scritture se se voi non perdonate agli uomini i loro falli se non perdonate agli uomini neppure il padre vostro perdonerà i vostri falli e se Dio non perdona i nostri falli i nostri falli rimangono su di noi e saranno sempre peggiori sempre più pesanti sempre più gravi capite ma è fondamentale perdonare senza riserve senza questionare senza mettere in dubbio senza fare riferimenti a niente perdonare senza riserva poi sarà Dio che deciderà cosa fare io devo essere libero io davanti a Dio e devo liberare gli altri capite perché perdonando voi liberate il fratello dai turbamenti ditegli di stare tranquillo ditegli non ti preoccupare fratello anche io sbaglio tante volte vado al Signore tutti i giorni me ne deve perdonare di peccati me ne ha perdonati di peccati non riesco neanche a contarli non riesco neanche a contarli figuratevi se uno mi fa un torto e mi chiede perdono come posso io non perdonarlo fratelli dai questo non è non è non è un gioco cioè queste sono cose importanti capite non sono cose di secondaria importanza falliamo tutti in molte cose ma ma anche se il fratello ha sbagliato sette volte al giorno con noi ma anche se ha sbagliato settanta volte al giorno capite cioè noi quando ci chiedono perdono io sto dicendo se ci chiedono perdono non aspetta a noi valutare se ce l'ha chiesto con sincerità come facciamo a indagare i cuori capite noi non li possiamo indagare Dio sì ma noi no allora noi perdoniamo facciamo quello che dobbiamo fare poi Dio Dio farà lui quello che deve fare capite sul perdono non si può scherzare non si può giocare non si può titubare non si può avere la minima pendenza abbiate pazienza da lì è legata tutta la preghiera se non abbiamo la remissione dei nostri peccati cioè la nostra vita crolla è uno dei motivi per cui i nostri peccati non vengono perdonati e appunto perché noi non perdoniamo chi ha sbagliato nei nostri confronti e ci ha chiesto perdono capite se non ci chiedono perdono al limite se volete liberarvi dovete dire come ha detto Stefano non imputare loro questo peccato cioè non è che possiamo perdonare uno che non ci ha chiesto perdono perché il perdono si dà se si viene se si chiede ma se 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 non ci chiedono perdono come dobbiamo agire come ha agito Stefano sulla croce l'ha detto anche Gesù ma io dico Stefano che è più vicino a noi come uomo come uomo di carne e polvere che Stefano ha detto nei confronti dei suoi uccisori dei suoi lapidatori ha detto non imputare loro questo peccato questo è stato il desiderio ecco quindi è inutile che diciamo io ti perdono anche se non mi chiedi perdono non ha senso non ha senso questa frase questa frase non ha assolutamente senso perché questa frase ha il senso che se ti chiedono perdono tu devi perdonare obbligatoriamente ma se non ti chiedono perdono e tu comunque vuoi fare qualcosa ecco fallo certo puoi parlare col fratello se lui magari non sa che ha peccato nei tuoi confronti puoi parlare col fratello e puoi dire fratello mi hai fatto tanto del male mi hai fatto questo male così e così molte volte la maggior parte delle questioni se noi parliamo con l'interessato si risolve si risolve capite allora quello dice ah ti ho fatto del male fratello sorella e ti chiedo perdono e tutto si chiude non c'è bisogno di sollevare tutto un polverone capite magari semplicemente non se ne è reso conto non se ne è reso conto comunque sia questa è la prima fase se voi glielo dite e lui non vi chiede perdono voi che cosa perdonate se non vi chiede perdono non ha senso perdonare uno che non ha capito che non è non si è ravvedute cioè il Dio non perdona coloro che non si sono ravveduti appunto perché non si sono ravveduti cioè non hanno capito di aver sbagliato non l'hanno riconosciuto quindi il perdono non si concede quando l'altro riconosce di aver commesso un errore non un peccato quindi se comunque sia noi volendo andare avanti quello io gli dico a quel fratello o quella sorella guarda hai sbagliato nei miei confronti quello dice ma io non so di aver sbagliato non mi sento di aver sbagliato va bene io però sono sicuro allora cosa farò va bene andrò in preghiera e dirò signore liberami da ogni turbamento e non imputare ai miei nemici questo peccato non imputare a questa persona questo peccato ecco questo lo posso fare davanti a Dio è una cosa buona e giusta ma io non posso perdonare uno che non mi ha chiesto perdono perché non si è reso conto di aver peccato capite se io gli dico io ti perdono quello mi dice chi ti ha chiesto perdono io non ho sbagliato e quindi quindi non ha senso capite però se vi chiedono perdono sappiate che è obbligatorio perdonare non fatevi riserve non andate a investigare se è sincero o non è sincero non vi riguarda questo non vi riguarda perché il nostro operato ricordatevi sempre deve tendere sempre al fatto che noi prima di tutto dobbiamo essere liberi da ogni peso da ogni radice velenosa da ogni rancore da ogni turbamento dentro di noi dobbiamo essere liberi e dobbiamo cercare anche di liberare gli altri fratelli ecco perché si concede il perdono per liberare per slegare il fratello da questo legame che in lui si era creato noi vogliamo il bene dei fratelli anche dei nostri nemici sappiatelo questo dobbiamo volere il bene anche dei nostri nemici quindi tanto più dei fratelli che amiamo e che sono nostri fratelli che fanno parte della nostra famiglia quindi fratelli il perdono è strettamente legato è strettamente il perdonare i nostri fratelli che hanno sbagliato è strettamente legato alla preghiera all'essere all'ottenere la remissione dei peccati ma poi voglio finire il discorso sulla preghiera con altre cose che possono come che possono impedire che possono impedire l'esaudimento della preghiera e questo lo leggiamo dobbiamo andare in prima Pietro in prima Pietro capitolo 3 al versetto 7 leggiamo parimente voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debola che il femminile portate loro onore poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita onde le vostre preghiere non siano impedite cosa succede qui succede che talvolta talvolta questo è rivolto in modo specifico agli uomini va bene questo è un passaggio che è rivolto ai mariti e non tanto alle mogli le mogli come come persone che subiscono un danno qui Pietro sapendo che la donna è il vaso più debole l'uomo come deve agire con la donna perché guardate bene se la donna è il vaso più debole è il vaso più debole cioè può avere ha un comportamento un modo di fare diverso da quello dell'uomo e quindi l'uomo è portato è portato ad avere pazienza a trattarla in maniera onorevole qui dice convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile portate il loro onore quindi anche se magari le donne non si comportano secondo noi secondo i canoni maschili secondo il canone che io con forza con virilità in una certa maniera ecco badate bene che la donna è diversa dall'uomo e l'uomo deve portare il massimo onore verso la donna altrimenti le sue impreghiere saranno impedite non saranno ascoltate non saranno quindi esaudite talvolta ci sono quei fratelli che pregano tanto e non vengono esaudite perché? perché maltrattano la moglie perché la maltrattano e questo non deve essere così è un altro elemento da considerare per ottenere l'esaudimento della preghiera affinché le preghiere non siano non siano impedite affinché le preghiere non siano impedite capite fratelli? quindi c'è anche questa parte che è importante è scritta e questa è questa e noi citiamo perché vedete quando dobbiamo dire che la donna deve stare soggetta al marito lo diciamo va bene lo diciamo sempre lo scriviamo e lo diciamo non abbiamo problemi ma dobbiamo anche dire che l'uomo è obbligato è obbligato a onorare a portare il massimo onore a sopportare pazientemente la moglie e sì e sì in che condizioni in quale maniera poi cioè perché ma date bene che non c'è scritto solo il fatto che la donna deve essere soggetta al marito ma c'è scritto anche quello che il marito deve fare per la moglie qual è il rapporto che deve avere l'uomo il marito con la moglie ed è molto più gravoso di quello della moglie che col marito infatti lo leggiamo in Efesini andiamo a leggere in Efesini Efesini capitolo 5 dal versetto 25 mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi chi ama sua moglie ama se stesso poiché e ne uno ebbe mai ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la chiesa vedete ma la chiesa sbaglia tutti i giorni qui c'è la figura dell'amore tra Cristo e la chiesa Cristo che è rappresentato che il marito è diciamo come Cristo la figura di Cristo deve dare la sua vita per la moglie come Cristo ha dato la sua vita per la chiesa vedete che peso che c'è non so se è riuscito a vedere in questi passaggi quanto è più pesante lo stato dell'uomo anziché della donna quindi la donna da una parte non si deve sentire aggravata dai pesi che la scrittura gli dà perché ci sono tanti altri pesi di cui non è gravata la donna ma gravano sopra l'uomo sopra il marito capite e ognuno deve portare il suo di peso come Dio ha stabilito perché Dio ha stabilito queste cose quindi l'uomo deve imparare ad amare anche la donna c'è scritto che deve imparare ad amare il marito ma anche l'uomo deve amare sua moglie come Cristo ha amato la chiesa perché se un marito non ama la moglie come farà poi ad amare i fratelli come farà ad amare Cristo come farà ad amare la verità la parola di Dio capite quindi c'è anche questo da considerare ed è strettamente legato come abbiamo letto in Pietro affinché le nostre preghiere non siano impedite quindi stavamo parlando della preghiera abbiamo affrontato anche qualche problematica che poteva fare in modo che per quali sono alcuni motivi per cui la preghiera non viene esaudita quindi abbiamo visto il perdono e abbiamo visto anche che bisogna onorare la moglie e con questo fratelli volevo esortarvi esortarvi quindi a pregare cosa è la preghiera cosa è quali sono le condizioni per ottenere l'esaudimento della preghiera e poi abbiamo visto alcuni motivi che impediscono possono impedire l'esaudimento della preghiera quindi fratelli e sorelle questo è il messaggio che io volevo darvi quest'oggi questa esortazione affinché voi impariate a pregare a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen